Sì, buonasera. Buonasera Paolo. Buonasera. Io sono qui per portare la mia testimonianza. Sì. Mio marito è stato aggredito da una banda di ladri la sera dell'8 luglio dell'anno scorso. Non ha avuto alcuna possibilità di difesa. Non abbiamo fatto in tempo alzarsi e scendere che è stato colpito da una bottiglia in testa. È morto dopo 11 giorni di coma. Io da allora sto combattendo questa battaglia perché voglio la certezza della pena. Voglio una giustizia, una giustizia vera. Voglio che chi ha sbagliato paghi. Voglio che lo Stato ci tuteli. Voglio più sicurezza. Dobbiamo essere tutelati. Nessuno più dovrebbe passare quello che abbiamo passato noi.